ciao benvenuti oltre il velo oggi voglio parlarvi in breve cercherò di farvi comprendere che cosa sia un tema numerologico oltre il velo i numeri sono sicuramente qualcosa che affascina tantissimo del resto siamo circondati di numeri non potremmo vivere senza numeri al di là della numerologia tutto si concretizza in un numero facciamo di conto costruiamo facciamo quindi osserviamo anche la meraviglia che si nasconde nella geometria sacra che poi alla fine contiene dei codici numerici ma il numero che cos'è non è semplice da spiegare perché per me è qualcosa di vivente ecco è qualcosa di vivente non è solo qualcosa che io scrivo su un foglio e con il quale io comunico e mi capisco con altri perché se io vado a fare la spesa e dico 10 ti do 10 ci capiamo quindi ci permette di comunicare ma il numero è veramente un maestro è veramente un mistero perché è una vibrazione di coscienza che cosa significa una vibrazione di coscienza non è semplice per me spiegarvelo però vi faccio un racconto dovete immaginare questa sorgente creatrice creatrice che ha da un soffio iniziale tutti sappiamo che sembra non ci sono teorie assodate che derivi tutto da un momento zero questo big bang che ha messo in moto delle vibrazioni tutto si muove tutto è vibrazione suono per differenziare da un suono primordiale nel modo in cui si è manifestato la creazione in forme diverse ha informato la vibrazione cioè la vibrazione primordiale deve essere informata per arrivare ad una forma a miriadi di forme quindi il numero in sé è proprio l'elemento primordiale con il quale il linguaggio macchina mi viene da dire del creatore il linguaggio macchina quindi è un ponte attraverso il quale l'idea primordiale si manifesta nella forma quindi conoscendo e quindi ci sono studi che derivano veramente dall'antichità la comprensione di che cosa si cieli dietro là perché dietro a ciascun numero c'è un'idea c'è un mondo che si muove con tutte le sue caratteristiche con tutte le sue già previste modalità di espressione sia nell'ottava tra virgolette più bassa quando proprio quel numero lavora a livello grezzo diciamo sia nella sua espressione più alta che potremmo definire un talento quindi ci sono dei principi universali dietro ai numeri con cui la vita si sviluppa si evolve attraverso dei cicli ecco prendiamola così attraverso dei cicli con i numeri vedo i movimenti della vita nel tempo allora il tema numerologico esoterico che quindi appunto è oltre il velo cerca di far emergere gli schemi dove siamo rimasti incastrati perché se nel numero esiste in potenza sia l'elemento come dire non ci ho capito niente sia l'espressione o finalmente lo esprimo all'apice della sua espressività nel tema numerologico cerchiamo di comprendere quali sono i percorsi in cui ci siamo incastrati i cosiddetti schemi carnici che sono venuto con un specifico progetto a comprendere per trasformare per far sì che poi quel numero mi permetta di aprire la comprensione di comprendere sempre di più chi sono al di là dei numeri che incarno di connettermi sempre di più alla mia essenza a quella parte oltre il velo che però sulla materia utilizza una serie di illusioni materiche appunto per farmi fare per guidarmi a fare le comprensioni i miei schemi carnici sono le mie i miei recinti ma al tempo stesso contengono la soluzione per uscirvi via via secondo un processo un processo che si evolve nel tempo poi nel tema numerologico della numerologia esoterica c'è da comprendere anche una cosa che i numeri vengono presi nella loro completezza cioè non si guardano i numeri da 1 a 9 solamente che sono la base con cui si calcola la numerologia ma si vedono anche i numeri da cui quelle singole cifre derivano perché sono, convogliano dei campi di esperienza diversi se per esempio sto guardando un numero 8 non è la stessa cosa che quell'8 derivi dalla somma da un 17 1 più 7 riduzione fa 8 o da un 71 oppure che derivi da un 26 o da un 62 quindi in numerologia esoterica si prendono in considerazione i numeri totali per arrivare poi alla realizzazione del numero singolo e della cifra singola allora siccome appunto e poi soprattutto si mettono, si collocano tutta una serie di parametri a partire dalla data di nascita, dal nome di battesimo, eventuali secondi, terzi nomi eccetera dal cognome si pongono su questa mappa che io definisco lenzuolo e si vede come dialogano tra di loro perché a partire da queste semplici informazioni viene costruito un mondo e adesso ve lo voglio far vedere perché al momento quando faccio le letture mi dico ma cos'è tutta sta roba in realtà poi la bellezza è proprio che in quella roba c'è qualcosa che emerge prepontentemente perché è il modo in cui l'intuizione dice guarda che è attivo in questo momento un ciclo quindi la persona è chiamata a focalizzarsi su determinate comprensioni quindi fornendomi una visione prospettica di tutto quello che potrà svilupparsi nella vita mi dà la possibilità di focalizzarmi e comprendere che cosa in questo preciso istante sta accadendo perché è accaduto prima qualcosa e dovrà accadere qualcos'altro dopo in quanto appunto dalla base, dal seme, dai numeri di nascita si attivano poi una serie di cicli che mettono in piedi come delle reazioni a catena delle reazioni a catena che si svolgono nel tempo e che quindi mi permettono di comprendere che cose magari accadute in un determinato momento della vita poi risultano propedeutiche a qualcosa che accadrà più avanti quindi ho questa proprio prospettiva nel tempo allora andiamo a vedere questo tema numerologico mi sono divertita, mi sono seduta e ho detto beh vabbè facciamo un picco pallino quando si dice chi è un picco pallino qualunque quindi ho usato proprio il nome picco pallino e la data di nascita mi è arrivata così però la cosa forte è che il tema numerologico è veramente molto interessante quindi proprio ci sta, ci capita fagiolo scusate che non ha caricato la mappa e quindi eccola qua allora andiamo a vedere subito questo tema vedete è un lenzuolo, c'è un sacco di cose ci sono un sacco di cose anche l'italiano ha bisogno del suo ruolo allora la prima cosa che vi mostro è importante nella numerologia esoterica la somma della data di nascita non è un singolo numero ma dalla data di nascita si estrae veramente un mondo questa cosa qua ha un sacco di informazioni dentro di sé e già questo è importante perché qui vedo dei passaggi e l'informazione che io estraggo da tutta la data di nascita non è la cifra singola che sarebbe un 1 bensì una serie di numeri che vengono calcolati in modo specifico quindi questa persona è chiamata a portare nel mondo un'energia 1 attraverso tutta una serie di cose che sono dialoghi che si instaurano tra la data di nascita e poi i numeri collegati ai nomi ma questa energia 1 la arriverà a comprendere non prima di aver fatto questi passaggi cioè passando per il 46, per il 19 e per il 10 e questo è già un elemento molto importante non è un 1 è tutta quella roba prima e in più poi è fondamentale che arrivare a questo 1 con questi numeri dietro le quinte è importante perché questi numeri hanno un loro perché quindi se io avessi per esempio una persona nata sempre il 13 giugno dell'89 quindi con questi stessi numeri ma con dei nomi diversi ok? non sarà la stessa esperienza perché le comprensioni che deve fare gli schemi karmici quindi i loop nei quali è incastrato incastrato, pinco, pallino non saranno gli stessi dell'altro quindi avrà dei maestri diversi ora e questo è già un elemento importante ecco perché vi dico quando io guardo un tema numerologico mi sembra sempre di avere delle autostrade perché devo comprendere sento che dialogano tra di loro questi numeri poi è importante vedere che va collocato nel tempo questo soggetto quindi interviene questo schemino qua che io chiamo il fantasmino perché mi permette di collocarlo quindi stanno agendo nella vita di queste persone degli elementi importanti che sono tipici di questa fase e già per me questa è una informazione da tenere in considerazione poi i cicli temporali si dispiegano per una questione di comodità si mettono tre anni si potrebbero mettere molto di più perché qui non è lo spazio che è importante infatti nella numerologia non abbiamo le aree tematiche che potremmo avere nell'astrologia con le case qui è proprio una questione proprio di schemi di comprensione di coscienza e colloco nel tempo anche rispetto a questi cicli ok poi nell'osservare colloco nel tempo anche rispetto a questa questo schema qui che sto triangolo rovesciato che mi dà delle altre informazioni si comincia a vedere che cosa emerge beh la prima cosa che emerge interessante è vedere che questo pinco pallo si deve realizzare questo 46 esprimendolo con un'energia 64 e 46 e 64 sono a specchio quindi sono le due stesse cifre un 6 un 4 ma il 46 non è il 64 vedete tutti e due sommano 10 e quindi alla fine danno 1 ma il 6 del 46 non è il 6 del 64 quindi ci sono delle comprensioni specifiche che vi da fare che sono utili da sapere è utile comprendere come agiscono altra cosa interessante che emerge è che questo pinco ha 31 anni e lui ha un 31 in questa posizione che rappresenta un parametro molto importante perché è il parametro che è un'energia che si porta dalla vita precedente che quindi conosce già ma deve ancora ben assistare quindi è un numero che agisce molto da dietro le quinte no? e quindi mi dà l'idea che quest'anno proprio perché ha 31 anni è in risonanza con questo numero quindi quello che è chiamato comprendere quest'anno cioè dal compleanno del 13 giugno del 2020 fino a che si conclude il ciclo 13 giugno 2021 ha delle compressioni importanti ma la stessa cosa è successa l'anno prima perché l'anno prima adesso mi grandisco un pochettino lui si trovava in un anno con energia 31 perché ogni anno ha un suo una sua energia si calcola in un determinato modo adesso non voglio entrare nei dettagli quindi anche l'anno scorso quindi sta vivendo degli anni cioè abbiamo degli elementi per dire guarda che qui stai facendo un passaggio molto importante che riguarda ovviamente l'energia del 31 che riguarda ovviamente l'energia del tuo passato perché il 31 deriva dal passato ok? quindi questo ciclo poiché questi numeri vengono tutti calcolati a partire dai numeri di base è sempre stato lì lui adesso lo sta vivendo e quest'anno e appunto in cui lui ha 31 anni un'altra cosa interessante che balza gli occhi è che ha vissuto vive due due volte l'energia del 51 51 che se vado a vedere qui mi ritrovo anche che lui l'ha sperimentata in questo novegno tra i 9 e i 18 anni quindi ho un indizio per dire ma andiamo a vedere che cosa ti è successo in quel periodo perché la comprensione di coscienza di quel numero 51 che è un numero tosto perché è un numero che ti fa provare veramente un dolore al cuore un senso di fallimento ecco anziché rimanere invischiato ancora in quella dinamica che mi sento fallito dire no vai a vedere che qui hai le opportunità di comprendere qualcosa che è accaduta nella tua vita è ora arrivato il momento di trascendere perché la vita è tutta un'espansione la vita ci ama non c'è niente che ci vuole impedire di realizzare noi stessi però se sono incastrato in un schema karmico la vita dice ragazzo pinco nel caso specifico pinco guarda questa cosa qua vuoi vederla perché io voglio portarti oltre il velo io voglio espandere la tua capacità di vivere espandere aprire i tuoi come dire paraocchi ecco qui ci sono tante cose interessanti che si possono vedere per costruire un tema natale un tema numerologico e far comprendere alla persona cosa sta vivendo e perché soprattutto sta vivendo dove lo vuole portare collocare nel tempo e nello spazio altra cosa la cosa utile che ti dà il tema numerologico è anche se sta in quel momento poi ovviamente avete visto ci sono tanti altri parametri ma naturalmente non possono intanto essere presi la prima volta si fanno a processi e poi magari in quel momento non erano attivi come numeri quindi non vale neanche la pena andare ad approfondirli perché ripeto i temi nostri natale numerologico degli anni sono viventi cioè non è che lo leggo una volta ciao e ho capito tutto cioè è una comprensione perché è vivente è un maestro e dicevo ti dà la possibilità proprio perché magari in quel momento quel numero particolarmente attivo di portare l'attenzione magari di usare un prodotto di Aurasoma collegato a quel numero oppure avere delle meditazioni tipo del Tao collegato a quel numero e oppure andare a comprendere anche dalla saggezza dell'I Ching quel numero che cosa ci sta quindi hai uno strumento di lavoro per agevolare il passaggio di coscienza che è in atto in quel momento e quindi far sì che anziché essere travolto dalla vita e sentirti sfigato la sfida permetta di far uscire il meglio perché poi la comprensione di quel 51 nel caso di Pinco Pallino gli permetterà poi di far tesoro di quell'esperienza che ha attivato un processo perché è tutto un ciclo che si ripresenta nel tempo ed è tutto collegato ed è questa la bellezza vedere tutto il collegamento vedere la nostra vita come qualcosa di attivo che ci sta portando a scoprire cose bellissime di noi che poi ripeto i numeri sono solo la forma noi siamo molto oltre ma attraverso la forma io comprendo e arrivo a connettermi all'oltre il vedo bene spero che tutto questo sia stato comprensibile che magari vi abbia stimolato l'interesse di approfondire qualcosa di voi di farlo diventare uno strumento di accompagnamento e vi quindi eventualmente sappiate avete i miei contatti continuate a seguirmi che farò altri video e magari quello sugli angeli per poter avere il quadro completo di quelli che sono gli strumenti che ci accompagnano nel nostro viaggio verso il nostro vero essere ciao ciao